Ciao ragazzi, oggi è 16 dicembre e apriamo questa casellina allora, su questa casellina c'è il Nyxlingere sono 1,6 ml e si chiama Embellishment sempre 18 mesi dall'apertura il colore è un marrone perché i lingerie sono tutta una linea sui colori nude che a me non piacciono ecco qua praticamente bocciato anzi questo è pure un po' farinoso mamma che schifo questo è proprio come qualità non ho capito come si sono formate queste cose comunque fa schifo questo si butta subito 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 mamma mia quanto va schifo veramente infatti i Nyxlingeri non ho comprato se non mi sbaglio non ho comprato proprio niente no bocciatissimo mi smuori di più proprio io già sono troppo chiara quindi con questo vi saluto ciao a tutti un bacione guarda